No, nulla d'importante accadrà mai. Nulla che tu possa desiderare di mettere in un libro. Nulla da raccontare per far colpo sugli amici. La vecchia, vecchia storia che non finisce mai. Il treno delle otto, il solito posto. Tenendo il giornale davanti la faccia, il via vai sulla scala, la porta a vetri da spingere, l'attaccapanni per il cappello, il pavimento di linole, lo scanno dell'ufficio e gli scherzi d'ufficio. E la paura che ti fruga sormigliona tra le costole. Sono soddisfatti di te? Nulla di interessante da fare, nulla di interessante da dire, nulla di notevole per nessun verso. Poi il viaggio di ritorno a casa, nel treno suburbano troppo caldo, verso il quartiere nuovo sgargiante, panni malconci, sporco, intonitito e in ritardo, a casa per la cena e poi a letto. Saremo così dopo morti?